Sono il coordinatore della mostra Valli in Tavola, è un progetto fatto per valorizzare tutti quelli che sono i prodotti di nuovo impianto o di vecchia produzione delle nostre zone, delle valli Taro, Ceno, Baganza, tutto il territorio parmense in pratica, abbiamo voluto presentare una vetrina adatta ai nostri produttori che magari da soli non riescono a farsi vedere o devono affrontare delle spese che sono abbastanza importanti. Non vogliamo togliere niente ai comuni dove ci sono grandi produttori bio, ma vogliamo dargli lo spazio per farli conoscere. In questa manifestazione 4-5 punti sono tra i più importanti, a parte il fatto del sabato mattina alle 9.30 che faremo l'inaugurazione nel Foro 2000, subito dopo ci sarà il convegno della rassegna Amola-Pennino con un titolo il mutamento climatico e la montagna, dove saranno presenti dei relatori importanti di grande fama almeno a livello delle nostre zone, dove dibatteranno appunto per quello che è la salvaguardia della montagna e il rispetto della nostra zona, delle coltivazioni e dell'Appennino in genere. Avremo poi una mostra abbastanza interessante di vecchie macchine agricole che la domenica si farà una rappresentazione della trebbiatura con vecchie macchine d'epoca. Saranno presenti diversi agricoltori. Alle 14.30 del pomeriggio del sabato ci sarà una camminata benefica per il centro oncologico dell'ospedale maggiore. Avremo diverse mostre, sia di incisioni sul legno sia di quadri, e diverse le piazze interessate del paese. Piazza 4 Novembre ospiterà diversi artigiani, una decina sicuramente, Piazza Matteotti produttori agricoli e produttori di vini. Il Foro Boario, il Foro 2000, invece conterrà le macchine d'epoca e le macchine nuove di nuova generazione. Spero che ci sia una buona affluenza che sia considerata dal pubblico sia per poter acquistare prodotti di buon interesse, di grande qualità, e sia per vedere tutto quello che può essere il mondo dell'agricoltura. Due o tre spazi dedicati ai bimbi abbiamo nel Borgo 20 Settembre, il Borgo Grande, ci sarà uno spazio dei Brick, dei Parma Brick. È un'associazione che fa giocare i bimbi con i mattoncini Lego. Saranno presenti diversi animatori di questa associazione per poter far giocare appunto i bimbi. Nel Foro 2000 avremo invece il giardino delle birbe, il giardino delle farfalle e degli insetti. Ci saranno farfalle, insetti di piccole dimensioni, che potranno i bimbi osservarli con microscopio, con lenti di ingrandimento e quindi giocare anche lì con le nuove esperienze che potranno fare in questo spazio. Alle 16 il racconto dei sapori, una visita guidata della rassegna Sentieri Urbani, che si effettuerà appunto lungo le vie e le piazze del paese, a cura dell'OIAT. Ringrazio l'amministrazione, il presidente della Proloco, il vicepresidente, che è la colonna portante di tutto quello che può essere l'organizzazione logistica, e grazie ai mezzi di diffusione che ci permettono di farci conoscere. Ringrazio l'amministrazione, il vicepresidente,